Amici di Start, sono qui all'Atrio Fundro, è la sede del municipio di Piazza Armerina e sto attendendo l'arrivo di Nino Camarata, il nuovo sindaco di Piazza Armerina. Grazie a tutti, apriamo la finestra perché avevamo promesso ai nostri ascoltatori che l'avremmo aperta questa finestra, perché il comune deve diventare trasparente. Grazie a tutti. Pretenderò la massima collaborazione perché il rilancio di questa città passa da una collaborazione con tutti voi e la pretenderò e so che ciascuno di voi farà il meglio, io farò del tutto per mettervi nelle condizioni di operare al meglio. Tra le primissime cose che abbiamo da fare, già ho il consigliere in calcaterra che ha l'opera perché come sapete la città si prepara ad un evento epocale, è motivo per cui dobbiamo da subito metterci in contatto con le istituzioni del caso, è forte dirlo ovviamente con il vescovo, quindi con la curia, col quale conto di vedermi fin dalle prossime ore e con la prefettura per iniziare a pianificare questo evento incredibile. Grazie a tutti e ci vediamo prestissimo.